Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Desktop V-Box Ultra 44. V-Box Ultra 44 3, 8GHZAMD quad core, per la casa famiglia, multimedia, desktop, gaming gamer, PC, USB 3, 0 computer R7 242 GB. 3, 8GHZAMD FX 4300 quad core processore. 8GB off DDR3-1, 3, 3, 3, 3MHz. RAV. 3000GB hard disk. AMD Radeon R7 242 GB scheda grafica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.